fermola e cosa fai? dentro un posto una signora dentro un posto una signora illustrissima, illustrissima, illustrissima che mai di spiegarlo non è l'ora, a tuo tempo lo saprai obbedirsi, obbedirsi, poi sei per ora ma sei femmina, sei idea, sei tuffata, chi fai qua? non è l'ora, non è l'ora, non è l'ora, non è l'ora come ha dunque il tuo a chiamare? donna giusta, l'accomare l'accomare a un compare disgraziato presta dunque il soccorrete quando io sono disperato ascoltate, apprenderete parla pur già tutti a casa si, più pronto parlerò più pronto parlerò da prima figuratevi ho fatto il servitore passando poscia al sbattolo del poco di un creatore mi volerò promuovere divenni cardiniere dovetti presto a smettere per il gusto del bichiere di caramelle e foscori ho fatto il negoziante ho fatto il pesci vendolo, ho fatto il patelante mi innamorai con l'asino, mi fecerò sposar mi fecerò sposar, mi fecerò sposar ma con me sono un sogno cambiamoci il verbo amar ma con me sono un sogno cambiamoci il verbo amar mi darmi il ver ma friggati me noia la colpa ora ha professo il nobile mester di sabattino ma sud in vanno trippo non sono più di fiame schino nuoto in un mar di debiti i debitori mi incantano com'onda senza porto veni cercando il termine di tanti affanni miei perché la triste historia tutta una rara potrei com' madre potentissima io sono disperatissimo a compasione muovetevi, muovetevi a pietà com' madre potentissima io sono disperatissimo a compasione muovetevi, muovetevi a pietà pietà, pietà Movete via pieta, 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 pieta